Allora, Matteo Salvini, abbiamo fatto un po' di scuola istituzionale, serve farlo perché poi si va a votare fra pochi giorni, bisogna anche capire come funzionano le regole. Lei ha sentito l'ultima parte dell'intervista di Matteo Renzi, non posso non darle la replica su quello, però poi dobbiamo parlare di tante altre cose, Matteo Salvini. Abbiamo 20 minuti da par condicio, non possiamo fare più di quello, se no ci chiude la G.com, giustamente, per le leggi previste dalla Repubblica Italiana. Allora, come risponde a Renzi quando dice, insomma, alcuni partiti dove erano quando noi volevamo trivellare e alcuni oggi obietterei quando si vuole fare il rigassificatore a Piombino, cosa che lei conosce bene? Guardi, visto che i minuti sono preziosi per rispetto di chi è davanti al televisore, non voglio spercare neanche tre secondi a rispondere a Renzi. Ha cambiato 38 volte idea in 38 giorni, diceva che Calenda era un marziano e poi si è alleato con Calenda per cercare di portare a casa una poltrona, quindi non mi interessa polemizzare a distanza con qualcun altro. Mi interessa invece parlare con quei ragazzi di Foggia, con quella signora di Foggia, che dicono la politica non mi interessa, la politica è lontana. Attenzione, perché la politica decide a quanti anni si va in pensione, la politica decide chi e quante tasse paga. La proposta della Lega è semplice, chi sceglie la sinistra sceglie la legge Fornero, quindi andare in pensione a 67 anni dall'anno prossimo. La Lega propone quota 41, ovvero dopo 41 anni di lavoro, di fabbrica, di scuola, di ospedale, di negozio, di trattore, andare in pensione è un sacro santo diritto. Per tutelare gli ultra sessantenni e offrire a quei ventenni di Foggia, di Milano, di Bologna, di Torino, la possibilità di avere un lavoro sicuro, non un lavoro precario, instabile, di un mese e un mese. Parlando di giovani, la politica può decidere se per fare la facoltà di medicina devi essere raccomandato o fortunato, oppure come propone la Lega copiando il modello francese, tutte le ragazze e i ragazzi che fanno domanda per il primo anno di medicina possono concorrere, possono iscriversi. E alla fine del primo anno, in base ai voti, in base al merito, in base alla bravura, in base alla capacità, chi ce la fa va avanti e chi non ce la fa fa altro. Quindi la politica entra in casa degli italiani, la politica decide se si paga o non si paga il canonerai, la politica decide se si assumono più poliziotti e carabinieri o se si spalancano i porti a migliaia di clandestini, in queste ore stanno sbarcando duemila immigrati irregolari a Lampedusa. Quindi io capisco che la politica, quelli che cambiano partito, quelli che cambiano casacca, quelli che cambiano idea come i Renzi di turno, allontani. Però il 25 settembre si decide dalla pensione, dell'università, della scuola dei figli, del sostegno alla disabilità. Oggi ho incontrato alcune mamme con ragazzi autistici che hanno diritto di vedersi riconoscere parità di trattamento. E non a caso, e poi mi taccio, la Lega non ha candidato VIP o personaggi televisivi come il PD. Qua in Sicilia, siccome io sono collegato da Modica, dalla splendida Modica, noi abbiamo candidato a Palermo il presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi, Mario Barbuto. Perché l'abbattimento delle barriere architettoniche non può essere solo un tema di campagna elettorale. Ecco, portare in Parlamento, a nome della Lega, non un VIP o una persona famosa, ma un Mario Barbuto, che per me è più importante di una persona famosa, che porta in Parlamento le esigenze, la bellezza, la voglia di vivere di milioni di disabili italiani, questo per me è la politica. Però le chiedo anche che la politica si deve confrontare con delle cose... Chi non sceglie fa in modo che scelgano altri. Si deve confrontare, mi scusi se io la riporto su un tema simbolico, si deve confrontare sul fatto che se noi non decidiamo velocemente, noi per esempio non facciamo un rigassificatore a Piombino, che dovrebbe portare a marzo dell'anno prossimo, non fra dieci anni, a marzo dell'anno prossimo 5 miliardi di metri cubi di gas, il che vuol dire una quantità fondamentale per non dipendere soltanto da Russia. Nicola, io non sono a favore di un rigassificatore, io ne vorrei dieci di rigassificatori. Ma lì si deve fare, proprio là a Piombino si deve fare, Salvini. Io sono favorevole all'energia nucleare, io vorrei il ponte sullo stretto di Messina, noi abbiamo combattuto per la TAV, mentre la sinistra voleva bloccare i lavori della TAV, quindi per me più gas, più energia, più fotovoltaico, più nucleare, più trivelle. Io voglio un paese che corre, che lavora, che cresce, non un paese fermo. Dove governa la Lega? Nei tanti comuni, nei tante regioni governate dalla Lega. Questa è realtà. La più grande opera pubblica in lavorazione in questo periodo è la pedemontana Veneta, dove governa la Lega con Luca Zaia. Io sono in Sicilia. Ecco, non è possibile che per decenni si sia chiacchierato del ponte sullo stretto. Il ponte sullo stretto è una necessità. Costa di più non farlo che farlo. Dobbiamo collegarci al resto dell'Europa. Questo io sono in grado di prendermi come impegno, perché in passato, sull'immigrazione, su quota 100, sulla legittima difesa, sulla flat tax, quello che la Lega ha proposto, ha realizzato. Sull'immigrazione è un tema fondamentale. Oggi un giornale spagnolo, Il Paese, che non è esattamente un giornale leghista e neanche di centrodestra, ha detto, guardate che sta succedendo un disastro a luglio in Europa e l'apertura del Paese a luglio in Europa sono arrivati un numero di immigrati, 166 mila, mi sembra, che non si era mai visto negli ultimi anni. Allora, e titola su questo, gli spagnoli, la migrazione irregolare in Europa cresce al ritmo maggiore dal 2016. Questo è il titolo del Paese. Io le voglio chiedere una cosa. Lei pensa, e in Sicilia, che è una terra di frontiera ovviamente per l'immigrazione, molti mi hanno detto, ma Salvini continua a pensare che l'immigrazione sia un grande tema da campagna elettorale, ma la gente ha ben altri problemi oggi. L'ha sentita questa obiezione che le faccio in maniera molto esplicita oggi? Da una parte il fenomeno c'è, dall'altro ci sono fenomeni oggi molto più gravi, si sostiene. Considera questa un'obiezione ragionevole o pensa che sia ancora uno dei grandi temi, quella dell'immigrazione? Guardi, l'emergenza in questo momento non è di destra o di sinistra. È aiutare le famiglie e le imprese a pagare la bolletta della luce del gas. Io da giorni chiedo a Letta, a Conte, a tutta la politica di unirsi per portare in Parlamento, in Consiglio dei Ministri, la proposta che ha adottato Macron in Francia. Macron in Francia ha messo 30 miliardi di euro, non noccioline, sul tavolo, per fissare un tetto all'aumento delle bollette al 4%. L'ha fatto la Francia che confina con l'Italia, perché non lo possiamo fare noi? Quindi dividiamoci sulla legge Fornero, sul nucleare, sul ponte, sull'immigrazione, sulla flat tax. Non abbiamo i 30 miliardi, questa è l'obiezione che le farebbe. Non si è a pagare le bollette. Falso, falso. Per combattere il Covid ne abbiamo trovati 165 di miliardi. L'emergenza energie è una seconda pandemia, è una seconda guerra. Invece di esserci i morti in ospedale, ci sono i posti di lavoro che saltano per aria. Abbiamo approvato sei interventi e decreti aiuti per affrontare il Covid da 165 miliardi. Orbene, penso che si possano e si debbano trovare 30 miliardi per salvare l'Italia. Altrimenti noi vinciamo le elezioni. Io vedevo i sondaggi. Sai che bella soddisfazione? Che milioni di italiani votino la Lega, che milioni di italiani votino il centrodestra e arriviamo a ottobre con la metà dei negozi e delle aziende chiuse. A settembre si può approvare un decreto energia copiato dalla Francia. Cioè, copiamolo dalla Francia. Diamo i soldi alle aziende che producono e distribuiscono energia, come ha fatto Macron, che non è leghista o putiniano. L'ha fatto Macron, possiamo farlo anche noi. Diamo i soldi alle aziende per mettere un tetto all'aumento delle bollette. In Francia l'hanno messo al 4%. Ma la signora che è qua in studio con noi... Chi è davanti al televisore, ha delle bollette che non aumentano del 4%, del 300%. Ma, onorevole Salvini, la signora che è in studio... O è tardi. C'è un po' di ritardo, lo so, mi scuso, ma la signora che è in studio con noi, c'è un'impresa metalmeccanica a Brescia, in Italia. Ha fatto delle cose straordinarie che non ha raccontato, ma che noi sappiamo. La signora mi ha detto che nei primi sei mesi dell'anno, l'imprenditrice, aveva speso 180 mila euro in più rispetto all'anno scorso, che sembra un titolo di un giornale. Ma il tema fondamentale è che non c'è più un euro sul conto corrente. Perfetto. Quindi il tema è, questi 180 mila ormai l'ha già spesi, è fottuto. Sono andati. Sono andati. Non ce ne sono più. Il tema vero è che questa signora a Brescia, con 30 famiglie, 30 impiegati, 30 operai, è andata, caput. Perciò il tema è come facciamo subito. Cioè lei non ha proprio neanche un secondo per respirare. Lei è venuta qua oggi per dirci una cosa molto semplice. E guardi che lo dice a destra, a sinistra, in alto, a basso. Non è che penso che gliene freghi moltissimo poi in questo caso di far politica. Non è il suo mestiere. Ma ha portato anche delle straordinarie uova. Posso dirlo? Ha detto se mi dovesse andare male... Vado a vendere le uova. E la portate questa sera. Perciò è una signora che veramente è un'imprenditrice che si rinventerà. Ma non è possibile perdere. È piena di ordini. Domani mattina il 4% forse non basta per lei, temo. Ha capito che dico Salvini? Lei ne sentirà migliaia di persone così. Che cosa gli dice? No, ma forse non ci siamo capiti. No, no, di fatti io posso aver capito male. Oggi è lunedì. Sì. Ci siamo capiti. Oggi è lunedì sera. Sì. Oggi è lunedì sera. Se tutti i partiti si mettono d'accordo e la Lega c'è, domani, cioè non a novembre, domani che è il 30 di agosto si dà mandato al governo che è in carica e al Presidente del Consiglio che è in carica di approvare un astanziamento da 30 miliardi per bloccare da dopodomani gli aumenti delle bollette. Si può fare? Sì. Lo stanno facendo altri paesi europei? Sì. Francia, Spagna, Portogallo, Grecia. Quindi se si vuole fare, si fa domani. Se non si vuole fare, il problema non è solo dell'amica di Brescia. Il problema è di milioni di imprenditori, di commercianti, di artigiani e quindi di operai. La Lega cosa dice? Noi siamo pronti domani? Sì. Non ci sono regole europee che ce lo impediscono. I soldi ci sono? Assolutamente sì. Perché tu pensi che l'Europa è in un momento di guerra. perché abbiamo la guerra sanitaria e anche la guerra vera, ahimè, in corso. Secondo te da Bruxelles qualcuno tira sul telefono e dice no Mario Draghi, non puoi aiutare le aziende e le famiglie italiane? Se vogliamo farlo, possiamo farlo. Se non si fa, è perché qualcuno non vuole farlo. Io ti dico stasera in diretta, e te lo ripeto domani e dopodomani, che per me si deve fare. Non so, fai l'appello. Chi è che non lo vuole fare? Chi è che non lo vuole fare? La Lega c'è. La Lega è la prima forza politica in Parlamento. Ma è il tuo mestiere di chiederlo agli altri. Ci state? Dal presidente Draghi, a Letta, a Conte, a Di Maio, ci state? Le aziende mi dicono che servono 30 miliardi, me lo dicono gli agricoltori e i commercianti. Io li metto lì subito. Detto questo, questa è l'emergenza di adesso. Che poi sia normale che stiano sbarcando in queste ore migliaia di immigrati irregolari, non solo in Sicilia, ma in Calabria, in Sardegna e in Puglia? No! Al primo consiglio dei ministri utile, questo costa zero, se gli italiani mi scelgono, si reintroducono i decreti sicurezza che hanno dimostrato di funzionare. Perché come in tutto il mondo, uno entra in un paese, se ha il permesso di entrarci, uno per entrare in casa tua stasera, suona il campanello, suona il citofono, non è che tira giù la porta a calci, apre il frigo e comincia a mangiare. Quindi i decreti Salvini hanno funzionato e possono tornare a funzionare. Salvini, la sua alleata di governo ha una posizione diversa, parla di blocco navale. Quando c'è questo famoso consiglio dei ministri di un partito, di una coalizione che sembra vincente, rischiamo che ci perdiamo un po' di tempo, tra blocco navale. Ma non serve, ma non occorre inventarsi niente. I decreti sicurezza avevano azzerato gli sbarchi? Sì. I decreti sicurezza avevano dimezzato i morti nel mar Mediterraneo? Sì. I decreti sicurezza avevano portato più ordine e regole nelle nostre città? Vital Bazzolini contesta il fatto che siano azzerati. Si possono riprovare in cinque minuti. Contesta il fatto che fossero azzerati? Abbiamo avuto 15 mila sbarchi durante il periodo di sardegna minale. Mese di luglio 2011. Mi scusi. Mese di luglio di quest'anno, 13 mila sbarchi. Tutto il 2019, con i decreti sicurezza e la lega avviminale, 11 mila sbarchi. Quindi un decimo. Senta Salvini, le voglio chiedere un altro. L'Italia era diventato un modello europeo. Adesso l'Italia è lo zimbello d'Europa. Perché entrano da Ventimiglia, entrano dal Friuli, entrano in Calabria, entrano in Sicilia. Entrano in tutta Europa, guardi, perché entrano in tutta Europa, dalla lotta balcanica è un problema, è un'emergenza vera. Se ne accorgono gli spagnoli, se ne accorgono i francesi, gli italiani e i tedeschi. Però il punto che le volevo chiedere, infine, che è un punto più politico, non mi dica che stiamo sprecando i suoi minuti di par condicio. Come ho chiesto a Renzi come potesse essere tornato con Calenda, in cui mi sono allambicato... Sono ospite in casa sua e quindi li può usare come vuole questi minuti. Mi sono allambicato tutta l'estate su questa cosa. Io temo di essermi allambicato tutta questa meravigliosa, ma drammatica estate, anche su quanto tempo starete d'accordo, lei Berlusconi e la Giorgia Meloni. Tanto oggi avete fatto una foto bellissima, lei e Giorgia Meloni. Ce l'abbiamo la foto con Giorgia Meloni? Cinque anni. Eh? Cinque anni. Cinque anni. Eh no, parli, c'è qualche minuto, parli. Cinque anni. Noi governiamo insieme i tre quarti delle regioni italiane e alcune migliaia di comuni. A differenza della sinistra, che è divisa in quattro, chi sceglie la Lega e il centrodestra sceglie un'idea d'Italia. Azzeramento della legge Fornero e avvio a quota 41, che anche i sindacati dalla CGL a CISL all'UGL sostengono, l'estensione della flat tax al 15%, da 2 milioni di partite IVA come oggi, anche ai lavoratori dipendenti e famiglie, fino a 70 mila euro lordi di reddito, quindi non per i ricconi, come dice Letta, ma perché 70 mila euro lordi se hai due figli e il mutuo non significa essere ricchi. La rottamazione delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate, che stanno facendo strage di famiglie e di imprese, e un po' di poliziotti in più e un po' di clandestini in meno. Per cinque anni noi questo siamo in grado di mantenere. Sull'energia liberare tutte le fonti energetiche, il fossile, il gas, l'idroelettrico, l'eolico, il solare, il nucleare. Noi non possiamo dire di no al nucleare, è folle che solo l'Italia, fra i grandi paesi al mondo, si rifiuti di utilizzare l'energia nucleare pulita e sicura. Detto questo, siccome le cose dette in televisione vanno e vengono, io invito in dieci secondi chi è davanti al video a informarsi direttamente. Se non si fida di Porro, se non si fida di Salvini, informatevi, scegliete. Io vi invito a scegliere. Chi non sceglie, chi non vota, lascia che sia la politica a passare sulla sua testa. Ultima domanda, ultima domanda. Io sono a processo per aver mantenuto la parola data agli italiani. Più di così cosa devo dimostrare? Ultima domanda, facciamo il toto ministri perché con lei lo dobbiamo fare. Ci abbiamo la foto dei quattro ministri che potrebbero arrivare? Giulio Terzi, si parla di lui, è venuto sospite da noi. Elisabetta Belloni, Giulio Terzi agli esteri, la Belloni che oggi è il capo dei servizi segreti al Ministero degli Esteri, Daniele Franco al Ministero dell'Economia o Fabio Panetta? Sono nomi che le dicono qualcosa o no, visto che si parla tanto di ministri di grande spessore per il nuovo eventuale governo di centrodestra? No, io ho tale tanto rispetto per gli italiani che il 25 settembre devono scegliere che iniziare a distribuire i ministeri. Adesso mi sembra irrispettoso. Portiamo a casa un decreto che aiuti le famiglie a pagare le bollette della luce del gas. Lei ha detto che dei nomi dovete farli per il Ministero dell'Economia prima delle elezioni, mi correga se sbaglio? Assolutamente, io da italiano ad esempio come Ministro della Giustizia mi sentirei garantito da una donna in gamba come Giulia Buongiorno. Questo è un parere mio, però prima bisogna chiedere il parere agli italiani. E all'economia da chi si sentirebbe garantito? E all'economia da chi si sentirebbe garantito? Da Nicola Porro, sincero liberale perché questo Paese ha bisogno di libertà economiche. Va bene. Di libertà economiche. Va bene. Non sottostimarti Nicola, non sottostimarti. Grazie, grazie, grazie. La risata in studio dà il senso di quello che pensa, secondo me, una proxy molto qualificata degli italiani. Grazie a Matteo Salvini. Grazie ancora e stia bene nella stupenda modica. che devo dire che è veramente favolosa.